Ecco Beppe, lo sfidante, Dostecco, molto preparato, teso, da due e mezzo a te. Ecco il nostro Remo Ramighini, campione irritato, Bruno spesso irritante. Ma anche tu sei stato irritato una volta a Beppe, raccontaci l'esperienza. E io una volta avevo il titolo, l'avevo dato e poi me l'hanno ridato. Prezza, Beppe. Ecco vediamo due che si salutano. Gesto di stizio. Ah e c'è quel tipico gesto scaramantico. Solito ridio di Remo Ramighini. La Cagnacca, la Cagnacca. Se il cane muore Ramighini vince, diciamo l'auspicio dovrebbe essere. Sì, ha fatto una straccia di cane, come sappiamo. Sì, è una canizia. La soffiata di Dostec. Sì, l'untura e la soffiata del Lich Sesternano. La pesata. Lituato. La sniffata. Sì, si vede proprio. Si dice che Dostec, il Lich Sesternano, sappia riconoscere dallo sniffo il nocio dal ciliegio. Sì, ma non solo, Beppe. Anche la gara. Comunque torniamo alla gara. Torniamo alla gara, Beppe, qui. Attenzione, si appresta a fare il primo tiro. Sì. Dostec, attenzione. Ramighini teso. Teso. Silenzio. Teso ma anche piuttosto steso. Ecco, aia. Tiro, bello, ha fatto un bel tiro, Bruno. Attenzione, una bella spondata. La mossa. La mossa. La mossa, eh. Questa è la mossa, sì, sì. Che te l'ha detto, Beppe? Eh, Bruno, è dai tempi di Iowa. Guarda, Beppe, è la mossa davvero. 50 point. Por, Dostec. Buono. E qui c'è, dai tempi di Iowa, dal 75 non veniva fatta la mossa, eh, Bruno? Eh, sì, sì, vediamo la risposta dei Ramighini che non ci sta. Ricordiamo il nostro sponsor ufficiale, Beppe. Colavaggio Biagioni, come sempre. Così prepara Remo. Attenzione, cosa inventerà Remo? Silenzio. Bello. Bel tiro. Bel tiro, Beppe. Sì. Tu cosa, cosa pensi venga fuori a questo di Roberto? No, non lo so, sembra un incrocio fra una maggiorata e una pinata, vediamo un po'. Ti ha fatto una maggiorata, Beppe. Una maggiorata bellissima. Ti ha fatto una maggiorata. Ha maggiorata di soli. Colo Ramighini. È in vantaggio Ramighini per il momento con questa maggiorata. Ricordiamo qui, dalla sala giochi in diretta, siamo dalla sala giochi di Largo Colombo, Angolo, Corso Magellano. Sì, mio zio aveva messo le case. Eh, mia nonna aveva messo gli alberghi in corso di neo, beh. E c'è che io un biscuccino ancora in prigione. Comunque, vediamo il tiro, il secondo tiro di Duster. La risposta di Duster. Un bel tiro. Non si muove niente. Capiamo. Cosa? La ritardata. La ritardata, bella. 100 points for Duster. L'ultima ritardata è... Sì, io l'ho vista ai centranziani giovedì. Buona, la ritardata. Premo molto... Molto tese. Per questa finale a birilli, bassi, pesi, welter, mattao. Pesi, welter, mattao. Vediamo... Ricordiamo il nostro sponsor ufficiale, Beppe. Autolavaggio piaceva noi come sempre. Vedete, un po' di scaramucce, eh, fra i due. Il biliardo, insomma, di solito è uno sport regolare, tranquillo, ma qui c'è comunque attrito, eh? Sì, sì. Sì, sì. La risata cavalleresca di... Sì, grande cavallere. Cosa ti inventa, Beppe? Si molleggia, Beppe. La celentanata, no? No, non so. Ora vediamo un po'. La risucchiata. Splendile. 150, poi. Splendile, grazie. Porramani! Risucchiata fu fatta dal padre di Aewan nel 1984. Sì, come risucchiava lui, non risucchiava nessuno. Era meglio una moglie, eh? Risucchiava meglio. Vediamo ora... Terzo tiro di... Dustek. Dustek. Questo è il terzo tiro, però ora è vantaggio Remo. Sì, terzo e ultimo tiro, beppe, attenzione. Che sniffa da beppe. Alla lille. Bellissimo. Bellissimo. No, ancora... Ma... Eh, una quadrupla rialzata. 350, poi. 300... Porr, Dustek. 350 punti, beppe. Sì, sì. Eh, qui è in vantaggio Dustek. È in vantaggio Dustek. Oddio, vedremo un difficoltale. Vediamo un po'. Se la sniffa a Dustek. Tutta quanta. Vediamo un po', eh, qui forse... Eh, ma c'è il cambio, c'è il cambio stecca. L'ha scambiata, beppe. L'ha scambiata, sì. Vediamo come risponderemo a questa splendida rialzata di... di Dustek. Dustek. Vediamo un po'. Ricordiamo il nostro sponsor ufficiale, beppe. Autolavaggio Biagioni, come sempre. Tensione e concentrazione per il tiro. Remo molto teso. Va, tirato, va. Beppe, è il tiro flipper, beppe. È il tiro flipper, bellissimo. Incredibile, beppe. Mamma mia. Eh, mamma mia. Solo lui. Solo lui. Giusto. Tutta la classe di Remo, il che c'è che avanza. Extra ball, beppe. È anche il titolo Remo. Io.